Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con il Meteo di TV6. Nel corso di questo venerdì, tempo instabile su buona parte della penisola per effetto di un flusso fresco e instabile proveniente dal centro nord Europa che va ad alimentare una depressione nel basso mediterraneo. Il risultato è la presenza di tanta instabilità da nord a sud, specie al nord a ovest e negli aree interne del centro Italia, acquazzoni, piovaschi, spazi anche al sud. In Abruzzo si prospetta una giornata ricca di instabilità, con nubi per buona parte della giornata, ci sarà poco spazio per il sole. Avremo tempo quindi perturbato con piogge sparse e anche qualche intenso temporale, soprattutto nelle aree interne. In Appennino, anche sulle colline del Terramano, in estensione verso i tratti costieri, tuttavia lungo le coste, i fenomeni risulteranno più deboli e più disorganizzati e intermittenti, mentre avremo accumuli più abbondanti nelle aree più interne. Temperature in netto calo, notate le massime non oltre i 15 o i 16 gradi. Grazie per essere stati con noi e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.